L'estate 2014, dal punto di vista climatico, probabilmente passerà gli annali come stagione anomala. Giornate ventose e temperature miti hanno ridimensionato le ferie dei siciliani, ma i meteorologi prevedono a partire da domenica prossima, grazie all'arrivo dell'anticiclone africano, l'innalzamento delle temperature, con picchi che tra lunedì e mercoledì potrebbero sfiorare anche 40 gradi. Vigilia di ferragosto all'insegna del bel tempo, quindi. Come in ogni ondata di caldo che si rispetti, non possono mancare consigli degli esperti per preparare al meglio il nostro organismo. Particolari attenzioni devono essere adottate dai soggetti considerati vulnerabili, ovvero anziani, bambini e persone affette da gravi patologie. Nell'elenco dei suggerimenti degli esperti, bere molta acqua, indossare abiti leggeri, evitare di uscire nelle ore più calde della giornata e seguire un'alimentazione sana, con cibi leggeri, incrementando nella dieta le dosi di frutta e verdura ed evitando pietanze ricche di grassi e bevande alcoliche. L'inalzamento delle temperature, molto probabilmente, farà registrare il tutto esorito nelle località balneari. Per quanti cercheranno un po' di refrigerio in mare, bisogna ricordarsi di proteggere la pelle dai raggi ultravioletti, adottando tutte le precauzioni del caso. Per chiudere, i meteorologi negli ultimi anni ci hanno abituato a battezzare le ondate di caldo africano con i nomi della mitologia classica. L'anticiclone atteso da dopodomani in Sicilia si chiamerà Polifemo.